Tornano a farsi sentire i lavoratori dell'Aveco di Martinsicuro. Dopo il tramonto della speranza di salvare l'azienda e il conseguente fallimento di gennaio, da allora nessuna prospettiva rassicurante per i circa 50 dipendenti al momento parcheggiati in cassa integrazione che ad inizio 2021 rischiano il licenziamento. L'Aveco è caduta nel dimenticatoio, pur se è fallita, tutti gli impegni presi precedentemente, sia dalla politica provinciale che regionale, sono venuti a mancare. Da gennaio i lavoratori sono soltanto in cassa integrazione, non hanno nessun tipo di alternativa, non è stato fatto un piano formativo nonostante l'accordo sottoscritto in regione, tantomeno si sta valutando l'opportunità che questo sito comunque venga riattivato perché comunque le condizioni industriali ci sarebbero, per cui di fatto sono 50 persone che si confrontano con il vuoto e con la certezza che a maggio 2021 comunque arriveranno i licenziamenti. Oltre a quella dell'Aveco, altre vertenze simili riguardano la provincia di Teramo, ad esempio quella dell'ATR di Colonnella, dove i lavoratori da mesi non percepiscono lo stipendio, o quella della Betafence di Tortoreto, che ha deciso di delocalizzare benché i bilanci degli ultimi anni erano stati chiusi tutti inutile. E la risposta delle istituzioni di ogni grado è stata finora deludente. Siamo stati dimenticati, fanno sapere i lavoratori. Purtroppo in tutte le realtà che stiamo vivendo, l'Aveco, la Betafence, l'ATR, la Celta, la sensazione che percepiamo spesso è di solitudine, perché ci troviamo da soli a combattere vertenze complicate. La politica locale è troppo distante da queste dinamiche e comincia ad esserlo anche la politica nazionale, perché per esempio su Betafence non arriva ancora la convocazione del tavolo ministeriale previsto. Per cui sicuramente non è una bella situazione in questo momento. Al Covid si sommano le vertenze industriali, quindi a una disperazione sanitaria si somma la disperazione sociale di chi comunque rischia di non sapere di che cosa vivere. Lo stiamo vedendo sul territorio che cosa sta accadendo e che comunque non si riesce a venire fuori da questa situazione. Quindi qualcosa non funziona o qualcuno non ha intenzione di puntare sull'industria metalmeccanica ma di puntare su altro. Intanto i sindacati hanno indetto uno sciopero generale per il 5 novembre per portare alla luce le criticità del settore metalmeccanico nella provincia terramana.